Buonasera, benvenuti a quest'ultima conferenza della prima parte appunto del ciclo di conferenze relative a Bergamo-Brescia 2023. E niente, ecco, siamo giunti alla fine, ti riprenderemo poi a settembre e questa sera abbiamo Francesca Tasca e Lucia Dell'Asta appunto che presenteranno questa costanza spia catara. Io niente, volevo soltanto salutare, non ho niente di particolare da dirvi se non ricordarvi che questa prima parte delle conferenze si chiude qua. Però settimana prossima, il 23 giugno, presso l'archivio di Stato di Bergamo ci sarà l'ultima sostanzialmente iniziativa di archivio bergamasco del 2023 con la presentazione del database i sovversivi bergamaschi dal 1903 al 1943. Un database molto importante che appunto, come dire, analizza 3500 figure di sovversivi appunto persone ritenute pericolose per la sicurezza dello Stato conservato appunto nell'archivio di Stato di Bergamo. Va bene, buona... adesso mi siedo anch'io e ascolto le alate parole di Francesca Tasca. Buonasera. Allora, buonasera. Innanzitutto presento la nostra relatrice. Io ho sentito parlare per la prima volta di Francesca da un mio professore in un'aula universitaria quando iniziavo a studiare di temi medievali dopodiché coinvolgendomi con il Medioevo mi sono coinvolta anche con le persone che studiavano Medioevo e quindi con questo professore che era suo amico perché avevano fatto il dottorato insieme e quindi per me è un onore poter essere qui oggi a presentare Francesca. Allora, la professoressa Tasca è una studiosa di movimenti religiosi non conformisti del Medioevo. Questa è l'espressione che lei vuole usare, poi magari ci dirà anche perché. Ha preso il dottorato in storia della Chiesa a Padova e oggi è presidente del Centro Culturale Protestante di Bergamo e coordina il lavoro in mane, diciamo, come la storia dei Valdesi che uscirà nel 2024 presso l'editrice Claudiana e di cui lei cura in particolare il primo volume che sarà sul Medioevo. Appianca alla ricerca e alla passione per il Medioevo l'attività di insegnamento in un liceo della nostra città. Di cosa ci parlerà Costanza da Bergamo? Una spia tra i cateri di Sirmione. Si tratta di una microstoria e di un'esperienza particolare e misteriosa, enigmatica, all'interno di una storia più complessa e anche essa enigmatica, come vedremo, di non univoca lettura. Quindi sarà sicuramente interessante entrare nei meandri di questa storia che già mi sembra la cosa interessante da segnalare qui all'inizio ci dice degli stretti rapporti tra le genti del nostro territorio Bergamo e Brescia che oggi insieme sono capitale della cultura. Quindi già nel Medioevo queste terre erano integrate. C'erano persone che appunto viaggiavano e avevano contatti tra di loro ben stretti. Vediamo un po' che cosa ci racconta Francesca. Grazie. Grazie Lucia per la tua introduzione, per la tua presentazione e anche per l'inaspettato ricordo di Tempi d'Oro della Gioventù. Ecco, io ringrazio anche tutti i presenti e tutte le presenti perché vedo un bel pubblico femminile, questa cosa mi piace tanto. Oggi parleremo anche di una donna e questa cosa davvero penso che sia un bello sprone a continuare su certo tipo di tematiche. Allora, prima di partire sono necessarie, secondo me, alcune precisazioni per meglio comprendere la vicenda che vorrei provare a narrare stasera. Allora, innanzitutto vedete nella carta che sto proiettando quelli che saranno i luoghi che vengono citati in questa vicenda, in queste vicende che in realtà si intrecciano, si intersecano. Quindi li vedete evidenziati in rosso. Vi dico immediatamente che il fulcro della vicenda è Ferrara, quindi prevalentemente la vicenda si svolge a Ferrara. Poi troviamo citati Bergamo, su cui ci soffermeremo. Viene citato ripetutamente Verona, altro luogo fondamentale. Bagnolo San Vito. Bagnolo San Vito, lo potete vedere, si trova non lontano da Mantua, appunto nel territorio della provincia di Mantua attuale, dove era presente una comunità cosiddetta Catara e ovviamente abbiamo Sirmione. Sirmione che sarà l'ultima roccaforte di questa comunità religiosa nell'area, diciamo, lombarda. Ecco, osservando la mappa, possiamo vedere che l'area geografica dove si intrezzano le vicende di cui parleremo stasera ricopre grossomodo una superficie che, se noi andiamo a prendere come centro come centro Sirmione, grossomodo con un raggio di un centinaio di chilometri da Sirmione, quindi verso Bergamo, verso Ferrara, questo è lo spazio, questa è l'area dove si svolgono le vicende. Dal punto di vista cronologico, le vicende che vorrei raccontarvi si collocano in un arco temporale di circa 30 anni, perché possiamo farle cominciare con il 16 dicembre del 1269, che è la data della morte di questo Armanno Pungilupo, di questo laico ferrarese, e vanno a chiudersi il 22 marzo del 1301, quindi poco più di 30 anni, è l'arco cronologico, quando viene data esecuzione alla sentenza definitiva contro il Pungilupo, con la distruzione del sepolcro, della tomba, con l'esumazione del corpo, cremazione dei resti, dispersione delle ceneri e distruzione anche di tutti gli oggetti devozionali che si erano accumulati sulla tomba del Pungilupo, quindi gli ex voto, le immagini, eccetera. Quindi lo spazio è questo, il tempo sono circa 30 anni, tra il 1269 e il 1301. Un'ulteriore precisazione riguarda le fonti. Allora, la vicenda che proviamo a ricostruire, no, ricostruire no, ma a illuminare un pochino, si basa fondamentalmente su due sole fonti, e la storia si fa con le fonti. Per lunghissimo tempo abbiamo avuto in realtà un'unica fonte, un'unica fonte che c'è stata trasmessa, non in originale, ma c'è stata trasmessa attraverso una coppia realizzata da questo Peregrino Prisciano, che era un umanista ferrarese. Peregrino Prisciano, a sua volta figlio di Prisciano Prisciani, era un umanista ferrarese, la sua famiglia, già suo padre ma anche lui, aveva probabilmente accesso, aveva frequentazioni con l'ufficium inquisitoriale di Ferrara, quindi ha avuto la possibilità di prendere in mano le fonti inquisitoriali e di trascriverle. Quindi il dossier su tutto il caso Pungilupo, quindi le varie fasi processuali, i vali capi d'accusa, le varie sentenze, noi non le abbiamo nell'originale medievale duecentesco, noi l'abbiamo attraverso la coppia redatta entro il 1518, quindi una coppia di questo umanista, all'interno delle historie ferrarienses. Il manoscritto delle historie ferrarienses si trova nell'archivio di stato di Modena. Allora, di questo testo noi abbiamo due edizioni. La prima edizione, mi viene da dire ovviamente, è l'edizione curata da Ludovico Antonio Muratori, quindi un'edizione settecentesca all'interno delle antiquitates del Muratori. Siamo nel quinto tomo delle antiquitates, potete vedere nella dissertatio sexagesima, che si occupa per l'appunto delle ereses, quindi delle varie forme, chiamiamole ereticali, che si erano ritrovate nel territorio italiano. Questa è la primissima edizione della trascrizione umanista del Prisciano. Più recentemente abbiamo invece l'edizione del 1986, realizzata da Gabriele Zanella, che a lungo si è occupato di queste tematiche sul non conformismo religioso, sulla dissidenza, poi magari possiamo aprire una discussione terminologica. All'interno di questa monografia, itinerari ereticali Patari e Catari tra Rimini e Verona, è contenuta una nuova edizione più accurata, più precisa, rispetto comunque alla imprescindibile edizione settecentesca del Muratori. Ecco, per lunghissimo tempo questa è stata l'unica fonte a nostra disposizione. Fino a quando, circa vent'anni fa, è stata ritrovata una nuova fonte. È stata ritrovata una nuova fonte, qui vedete la appunto, vedete nella slide questa fonte, che è costituita da un solo folium, cioè è un unico folium sciolto, sparpagliato, che è stato ritrovato e poi pubblicato da Marco Bascapè, che in quegli anni era il responsabile dell'archivio della Fondazione Golgi Redaelli di Milano. Ecco, vorrei anche approfittare di questa occasione proprio per ringraziare il dottor Marco Bascapè per la sua davvero estrema cordialità, gentilezza, l'aiuto anche che mi ha dato e anche vorrei ringraziare l'attuale direttrice della Fondazione Golgi Redaelli, la dottoressa Lucia Aiello, proprio per avermi dato la possibilità di utilizzare questo materiale. Ecco, in questo folium sono contenuti 14 testimonianze afferenti il processo Pungilupo, tra cui anche la testimonianza della nostra Costanza da Bergamo, che in quest'unico documento compare anche con un ulteriore cognomen, che è De Gumbeo. Poi ci torniamo su questo aspetto. E questa nuova fonte, questa seconda fonte, è stata resa nota alla comunità scientifica, appunto con un saggio, con un testo di Marco Bascapè pubblicato sui quaderni di storia religiosa nel 2002. È un testo preziosissimo perché cerca anche di spiegare le possibili ragioni per cui questo folium sia atterrato, sia finito nell'archivio della Golgi Redaelli di Milano. E qua dà diverse possibili ipotesi, tutte altamente attendibili. Quindi queste sono due prime precisazioni, una sullo spazio e il tempo di cui ci occupiamo e l'altra sulle fonti di cui abbiamo a disposizione. Quindi due sole fonti, una un dossier trascritto dall'umanista prisciano e la seconda fonte, quest'unico folium ritrovato in un archivio milanese. Una terza e ultima precisazione che però in questo caso è una precisazione di tipo teorico. La santità, come pure l'eresia, non esistono in sé stesse, quindi sono sempre attribuzione di santità, sono attribuzione, accusa di eresie. Quindi sono essenzialmente delle etichette, possiamo dire così, che vengono utilizzate, che vengono applicate da delle istituzioni, da delle strutture di potere e vengono utilizzate con specifiche finalità. Finalità di controllo, finalità di repressione. Quindi essendo delle attribuzioni, quindi non sono, non esistono in sé stesse né la santità né nell'eresia. Potete verificarlo appunto dal mutamento che c'è stato nel corso dei secoli, di cosa si intenda per santità e di cosa si intenda per eresia, di come sia stata utilizzata l'attribuzione di santità e l'attribuzione di eresia. Quindi sono etichette discutibili, contraddittorie e maleabili e funzionali a delle istituzioni, a degli apparati, a delle strutture di potere. Perché questa puntualizzazione di tipo teorico? Perché il caso di Armanno Pungilupo è davvero emblematico da questo punto di vista. Passiamo quindi al caso Armanno Pungilupo. Ecco, per chi si occupa di queste cose il caso Armanno Pungilupo è un caso emblematico, studiato, noto. C'è dell'importante bibliografia sul caso Pungilupo, a cui eventualmente poi se a qualcuno interessa posso rimandare. Sicuramente un buon punto di partenza, molto sintetico ma efficace, è la voce Armanno Pungilupo all'interno del dizionario biografico degli italiani, curata da Marina Benedetti. Quindi quello può essere un ottimo punto di partenza per avere un inquadramento. La vicenda Pungilupo parte appunto da Ferrara, dalla cattedrale di Ferrara. Il 16 dicembre 1269 il laico Armanno Pungilupo, sottolineo laico, cioè non chierico, non chierico. Sappiamo anche che Pungilupo era sposato, conosciamo il nome della moglie dal dossier inquisitoriale. Quindi il laico Pungilupo muore e il suo corpo viene portato nella cattedrale di Ferrara, viene sepolto nella cattedrale di Ferrara e pressoché immediatamente cominciano a fiorire sulla sua tomba tutta una serie di miracoli, di guarigioni essenzialmente. Quindi si diffonde questa fama di santità e la tomba del Pungilupo diventa una meta di pellegrinaggi, di tutta una serie di persone che vanno a cercare una grazia, essenzialmente vanno a cercare guarigioni fisiche. Il clero ferrarese, e per clero ferrarese intendo anche proprio il capitolo cattedrale, quindi anche il vescovo di Ferrara, appoggiano e alimentano questa devozione popolare, alimentano questi atti di culto sulla tomba del Pungilupo. Pressoché contemporaneamente invece parte un'indagine, una inquisizio, da parte degli uffici inquisitoriali, quindi per il clero di Ferrara Pungilupo è santo, per gli inquisitori Pungilupo è eretico. Quindi parte proprio una doppia inquisizio, inquisizio non significa null'altro se non indagine, inchiesta. Quindi c'è un inquisizio prosanctitate, quindi a favore della dimostrazione della sanctitas di Armanno Pungilupo, che viene sostenuta dal vescovo di Ferrara, Alberto Prandoni, dal clero ferrarese, dal capitolo cattedrale. Questo clero ferrarese ingaggia un notaio proprio per registrare, registrare, scusate, forse devo stare più lontano, per registrare i miracoli, proprio per attestarli anche a livello notarile, con le testimonianze, con le deposizioni. Quindi i miracoli vengono registrati da un notaio ingaggiato dal clero ferrarese. Contemporaneamente parte invece l'inquisizio pro eresi, cioè un'inchiesta, un'indagine, sostenuta dagli inquisitori, dall'istituto inquisitoriale, per dimostrare che questo Pungilupo in realtà era un eretico, cioè aderiva ai gruppi cosiddetti catari, di matrice dualista. Chi sono i protagonisti della inquisizio pro eresi? Qui vi metto alcuni. Allora uno è frate Aldobrandino, poi frate Florio da Vicenza, frate Guido da Vicenza. Vedete OP, 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 vuol dire Ordo Fratrum Predicatorum, quindi sono Domenicani. Perché nell'ufficium inquisitoriale di Ferrara era gestito, era stato affidato ai Domenicani. Piccola parentesi, frate Guido da Vicenza, l'ultimo inquisitore che va a chiudere tutta la procedura e a eseguire la sentenza finale contro il Pungilupo nel 1301, pochissimi anni dopo, nel 1304, viene nominato vescovo di Ferrara. È chiaro? Cioè quello che era stato l'inquisitore finale e aveva eseguito lo sgombero della tomba, la distruzione degli oggetti devozionali, la dispersione delle ceneri, tre anni dopo diventa vescovo nella cattedrale di Ferrara. Cioè proprio in quella cattedrale dove c'era stata la tomba che lui aveva fatto sgomberare. Abbiamo poi Frate Timideus Spongati che non è un frate predicatore, non è un Domenicano, è un frate minore, cioè un Francescano. Frate Timideus Spongati è attivo nell'ufficium di Verona, perché l'area di Verona, l'ufficium di Verona, era invece affidato all'inquisizione francescana. Vi premetto già adesso, vi anticipo, che Frate Timideus Spongati diventerà a sua volta vescovo di Verona. Quindi osservando la carriera di Guido da Vicenza e di Timideus Spongati, vediamo che l'attività inquisitoriale era, diciamo, un gradino fondamentale per poter fare carriera ecclesiastica. Quindi chi svolgeva bene il lavoro inquisitoriale, bene dal punto di vista degli inquisitori, dei repressori, chi svolgeva bene l'ufficio inquisitoriale, questi due, sia Frate Guido da Vicenza, che Frate Timideus Spongati, lo vedremo, hanno svolto bene il loro lavoro di inquisitori, sono stati premiati, diciamo così, con la carica vescovile. Uno è diventato vescovo di Ferrara e l'altro è diventato vescovo di Verona. Nel dossier sul Pungilupo ci sono tantissimi spunti interessanti. In questa sede ci occupiamo di, diciamo, focalizzare un po' la presenza bergamasca all'interno di questo dossier. E a riguardo vi propongo tre deposizioni all'interno, non preoccupatevi, lo traduco io, non preoccupatevi. Tre deposizioni all'interno del dossier del Pungilupo che riguardano Bergamo. Allora, questa prima deposizione è di un tale Frate Arasino Bergamasco, Pergamensis, un Frate predicatore, quindi un Frate Domenicano, che fa la sua deposizione nel 1270, il 7 di giugno. Sotto giuramento dice che trovandosi nel convento bergamasco del proprio ordine, quindi nel convento bergamasco dei Domenicani, aveva chiesto a un mercante bergamasco che era ritornato da poco da Venezia, dalla zona di Venezia, gli aveva chiesto che novità ci fossero da quelle parti, a cui nuova eranti in parti busillis. E questo mercante risponde al Frate, dice, eh ci sono delle belle novità, perché è apparso un santo a Ferrara. E il Frate risponde, beh questo non è impossibile, hoc non est impossibile. Ma il mercante bergamasco dice, eh beh però, eh, ai vostri frati, cioè ai frati domenicani, e ai frati minori, cioè ai frati francescani, questa cosa non piace, eh, non placet, perché era ritenuto sospetto di eresia. Allora, questa bella deposizione, secondo me, interessante, perché ci dà un bello spaccato su tanti aspetti del, eh, del 200, eh, in quel tempo, della nostra area. Quindi vediamo anche la modalità di circolazione, no, delle notizie, questo mercante che arriva da Venezia, però vediamo già anche qua questa cooperazione, questa sinergia, che non era per niente scontata, ve lo garantisco, tra l'inquisizione francescana e l'inquisizione domenicana, però sul caso Pungilupo c'è una convergenza, una sinergia dei due, eh, dei due ordini, eh, preposti all'inquisizione. Vediamo un'altra deposizione che, ehm, ci dà una, uno squarcio sulla, eh, presenza, eh, sulla, sulla presenza, diciamo, di, eh, realtà non conformiste in area bergamasca e i legami con Ferrara. Questa deposizione di un tale Castellano, il quale fu un credens ereticorum, cioè era stato un credens, Qua è necessario una piccolissima parentesi. All'interno di questi, di queste realtà religiose, di queste esperienze religiose non conformiste, dualiste, esistevano due livelli di adesione. C'era un livello un po' più, eh, più lasco, eh, che era quello dei credentes, cioè erano delle persone che erano, hm, diciamo, dei sostenitori, eh, dei seguaci, eh, anche magari dei simpatizzanti, d'accordo? È chiaro chi era un credence. Mentre il livello, eh, secondo livello, il livello più, eh, più difficile, era invece quello dei perfetti e delle perfette, cioè, eh, di coloro che avevano, eh, fatto il rito di iniziazione. Rito di iniziazione, che era una sorta di battesimo spirituale, eh, veniva chiamato consolamentum, e, adesso, sulla ritualità, qua, anche qua, la bibliografia è sterminata, però sappiamo che aveva il momento fondamentale della imposizione delle mani sulla testa. Questo era un momento fondamentale, che ritroveremo poi in un'altra fonte. Eh, quindi, poi c'erano anche, erano anche implicato l'uso, eh, del Vangelo di Giovanni, il Vangelo di Giovanni, che è quello più, eh, spirituale, no, tra i Vangeli, eh, in uso. Quindi, nel momento in cui si parla di credence, è qualcuno che, eh, segue, dicepolo e seguace, ma non ha ottenuto l'iniziazione, non ha, non ha avuto il rito di consolamentum, il battesimo spirituale. Torniamo a noi. Questo castellano era un credence. E, nella sua deposizione, che è avvenuta il mille, eh, il 20 di maggio del 1278, lui afferma che circa 22 anni prima, quindi circa nel 1256, aveva visto Pungilupo, che parlava familiariter, quindi in modo familiare, con familiarità, con l'eretico bergamasco Giovanni. E ci dice anche dove ha visto questo, e ci dice anche che il Pungilupo aveva fatto reverentiam, cioè aveva fatto un atto di venerazione, di devozione, nei confronti di questo eretico bergamasco Giovanni. Allora, su chi sia questo eretico bergamasco Giovanni, ci sono pochi dubbi, nel senso che, considerando anche l'altezza cronologica, è altamente probabile che si tratti di Giovanni Delugio, o Delugio, che è stato uno, anzi, il massimo teologo dualista lombardo, e probabilmente originario della Valseriana, ecco, per intendersi. Poi, quindi era un leader catara, un leader dualista, attivo in area lombarda bergamasco. Ecco, questo per dire, appunto, anche i legami tra Ferrara, Bergamo, e questo tipo di sensibilità religiosa. Passiamo a una terza deposizione, sempre del processo Pungilupo, che riguarda Bergamo. Allora, questa volta è un grazius, un tale grazius, bergamasco, pergamensis, che però risiede a Ferrara. È un bergamasco che viveva a Ferrara. Questo bergamasco che viveva a Ferrara, nella sua deposizione, resa nel 1270, il 12 di dicembre, sotto giuramento afferma che, quando era morto il Pungilupo, erano arrivati da Bergamo diverse persone, Quidam, erano arrivate da Bergamo, e lui le aveva ospitate in casa sua. Quindi, da bergamasco, aveva ospitato i bergamaschi che si trovavano a Ferrara. Ma tra questi, che arrivavano da Bergamo, vi erano alcuni eretici, Quidam eretici, e uno di questi ha simulato una finta guarigione miracolosa. Qua ci dice che questo ha finto di essere muto, e poi ha finto di essere miracolato, di riavere la parola. Ma nella deposizione ci dice, questo testimone, questo grazius, dice, ma lui sapeva benissimo che in precedenza questo non era muto. Quindi era tutta una simulazione, era una finzione. Questa è la prima parte della deposizione. La seconda parte ci dice che Molti dei credenti bus ereticorum de Pergamo, quos bene conoscebat. Allora, molti erano arrivati da Bergamo a Ferrara, Ed erano credentes ereticorum. Quindi c'erano a Bergamo, o comunque nel territorio bergamasco, Molti credentes ereticorum, quindi molti seguaci di questa forma religiosa dualista. Che addirittura erano andati, diciamo, in pellegrinaggio sulla tomba del Pungiluppo. E appunto il testimone, questo grazius pergamensis, ci dice che lui sapeva bene che erano giunti a Ferrara per vedere le opere del Pungiluppo. Opera si intende i miracoli del Pungiluppo. E questi bergamaschi che lui conosceva, che aveva ospitato in casa, sapeva fossero credentes, avevano fatto magnam reverentiam alla tomba del Pungiluppo. Quindi avevano mostrato la loro devozione verso il Pungiluppo. Allora, perché soffermarsi su queste tre testimonianze all'interno del dossier Pungiluppo? Perché queste tre testimonianze ci possono introdurre al personaggio di Costanza da Bergamo. Cioè Costanza da Bergamo non è un unicum. C'era una, diciamo, un'atmosfera, un humus nel 200 a Bergamo, nel territorio bergamasco, favorevole, propizio a questo tipo di religiosità. E su questi aspetti ha recentemente svolto una ricerca Daniel Totti, una ricerca sostenuta grazie alla borsa dell'Avvocato Cicolari, che è elargita attraverso Archivio Bergamasco. E anche Daniel Totti, in questa ricerca, conferma questa atmosfera, questo favore, questo fermento che vi era a Bergamo e nel territorio bergamasco nei confronti di questa esperienza religiosa dualista, più o meno radicale. arriviamo a Costanza. Allora, per quanto riguarda Costanza, parliamo di delazione. Anche qua una brevissima puntualizzazione sulla delazione. Perché nell'attività inquisitoriale, l'attività inquisitoriale prevedeva due forme di delazione. Ecco, qui vi ho messo nella slide un volume recente del 2020, pubblicato da Viella, riferire all'autorità, denuncia e delazione tra Medioevo ed Età Moderna. e all'interno di questo volume c'è un saggio di Riccardo Parmigiani che appunto mette a fuoco le strategie, diciamo così, di delazione attuate, promosse dall'Istituto Inquisitoriale. Come funzionava la delazione? Allora, c'era una prima forma di delazione che era prevista dalla manualistica inquisitoriale, era prevista dalla normativa, che si concentrava nel cosiddetto tempo di grazia, tempus grazie. Quando un inquisitore faceva partire un inquisizio, un'inchiesta, un'indagine, dava un tempo, solitamente era un tempo di un mese, di solito, in cui le persone potevano recarsi spontaneamente dall'inquisitore, l'espressione proprio è spontevenientes, cioè di loro spontanea volontà, recarsi dall'inquisitore e fare denuncia, autodenunciarsi o denunciare. Chi sfruttava questo tempo di grazia, questo mese, aveva diritto a quelli che noi oggi chiameremmo sconti di pena. Quindi, questo tipo di strategia era una strategia che si è mostrata estremamente efficace, perché questa, diciamo, questo sgravio penale incentivava la delazione, l'autodelazione. Quindi è stata sfruttatissima. Tra l'altro questa modalità viene spesso accostata a quella del pentitismo, per cui tu collabori, autodenunci, io ti do lo sconto di pena. però vedete che era già stata messa a punto, in modo molto efficace, dagli ufficium, dagli ufficia inquisitoriali, che sono delle strutture essenzialmente di controllo, passate nel termine poliziesco. Questa è la prima modalità di delazione. esisteva poi la seconda modalità di delazione, che invece era una tipologia molto più mirata, molto più precisa, che era proprio quelle delle spie, che venivano chiamati exploratores, gli exploratores, per esplorare significa proprio spiare. e la nostra costanza da Bergamo rientra in questa seconda tipologia di delazione, quindi non nella delazione sponte venientes, spontanea, in quel tempo in cui si aveva lo sconto di pena, ma è qualcuno che è stato incaricato in modo preciso per andare a raccogliere delle informazioni, per andare ad esplorare. Ora, vorrei presentarvi le due fonti che noi abbiamo su costanza, di cui vi ho parlato all'inizio, proviamo a fare una rapida comparazione, niente di niente di troppo niente di troppo diciamo dettagliato, però per capire cosa abbiamo dalla fonte. Allora, questa è la prima la prima fonte che abbiamo e ci dice che Costanza di Bergamo che fu consolata a Sirmione, consolata vuol dire che aveva ricevuto il consolamentum, era un'iniziata, era una perfetta, era nel secondo livello, fa la deposizione nel 1274 il 22 di marzo e dice che circa quattro mesi prima si trovava a Sirmione, quindi siamo nel novembre del 1273, a Sirmione c'era, ha parlato col vescovo degli eretici Lorenzo, Dominus Laurentius, con Guglielmo di Borgogna, con Martino Darinda di Verona, con Francesco di Pedemonte e tutti questi erano della setta di Bagnolo, di Bagnolo San Vito nei pressi di Mantua dove c'era questa comunità e con oltre trenta altri eretici. Costanza dice di aver ricevuto vedete qua manus imposizione ha ricevuto l'imposizione delle mani da questo Guglielmo davanti a molti eretici e aveva fatto ciò per poter esplorare quindi per poter spiare la setta degli eretici che si trovava a Sirmione perché era stata inviata a tale scopo proprio dall'inquisitore frate Timideo che era l'inquisitore di Verona. Procediamo procede la deposizione quando lei si trova a Sirmione chiede a questo Dominus Franciscus che era considerato un leader nel gruppo infatti qua dice qui dici tur magnus et dominus intereos chiede se questo Pungilupo di Ferrara fosse stato della sua setta questo Franciscus risponde se tu riceverai la nostra imposizione delle mani cioè il nostro rito di iniziazione il consolamento io ti dirò tutta la verità riguardo a questo fatto riceve l'imposizione delle mani e a seguito dell'imposizione delle mani il Dominus Franciscus afferma che otto anni prima a maggio nella casa d'Espata a Verona Pungilupo aveva ricevuto il consolamentum consolatus fuit potete riconoscere un po' le parole nel testo quindi ci dà esattamente la data maggio di otto anni prima quindi 1265 ci dice luogo Verona ci dice esattamente la Domus d'Espata sull'identificazione di questa Domus d'Espata sono state scritte delle cose e ci dice che Pungilupo era stato consolato aveva ricevuto il consolamento procediamo adesso con la seconda fonte portata alla luce come vi ho detto una ventina di anni fa che ci dà delle informazioni ulteriori 10 minuti finisco allora questa è la seconda fonte cosa ci dice la seconda fonte in più ci dice siamo sempre nel 1274 sempre il 22 di marzo ci dice però che la deposizione è avvenuta a Verona nella chiesa di Sanfermo Maggiore che era la chiesa dei Francescani dell'Ordine dei Frati Minori ci dice i testimoni che hanno assistito alla deposizione di Costanza cosa ci dice in più ci dice Costanzia Costanza di Bergamo de Gumbeo ecco su questo cognome io ho cercato ma io non ho trovato altro cioè al momento si tratta di un apax di un unicum io mi auguro spero di poter trovare qualche altro riscontro di questo cognomen aggiunto in questa fonte e ci dice anche questa fonte che Costanza ha giurato e ha fatto la sua deposizione davanti a Frati Timideo quindi è impossibile che Costanza si sia inventata di essere andata a fare la spia a Sirmione perché stava facendo la deposizione davanti al suo mandante davanti a chi l'aveva inviata proprio per questo questa è la chiesa di Sanfermo Maggiore a Verona dove è avvenuta la deposizione di Costanza la sua testimonianza procede e aggiunge dei dettagli rispetto alla prima alla prima deposizione alla prima fonte ci dice che mentre lei si trovava a Sirmione si erano diffuse delle voci dei rumores vedete qua rumores sarebbero come dei rumores dei rumores tra gli eretici che si trovavano a Sirmione perché cosa era accaduto un tale Iacobetus che era messaggero degli eretici e portava molte lettere in varie parti della Lombardia ad multa spartes Lombardie era stato catturato con le lettere che portava con le missive attraverso gli uomini di frate Timideo questo inquisitor francescano attivo a Verona e per questa ragione dato che era stato catturato il loro messaggero gli eretici erano molto addolorati multum do levant soffrivano per questa cosa questa parte della testimonianza ci dà uno squarcio sul fatto che queste comunità dualiste catare sparpagliate in giro per la Lombardia con alcuni nuclei ovviamente si tenessero in comunicazione e vi era appunto anche un messaggero un nunzius ereticorum che provvedeva a portare le varie lettere e tenere in collegamento le varie comunità poi cosa aggiunge sempre Costanza dice che aveva chiesto a Dominus Franciscus se Pungiluppo di Ferrara fosse stato della loro setta cioè del gruppo di Bagnolo San Vito e aveva chiesto ciò perché il frate inquisitore Timideo le aveva imposto questo incarico quindi lei era stata proprio inviata da frate Timideo inquisitore per scrutare ecco i due verbi che noi troviamo quando si parla di spie di questa modalità di delazione sono esplorare e scrutare quindi nella fonte precedente avevamo trovato il verbo esplorare qua troviamo il verbo scrutare che va a confermare in ogni caso quella che era la fisionomia di costanza ecco quali ipotesi possiamo fare riguardo a questa costanza de Bergamo de Gumbio allora il fatto che l'inquisitore Timideo abbia individuato come infiltrata una donna e una donna bergamasca ci fa capire che dal momento che nel momento in cui uno sceglie un infiltrato un infiltrata sceglie qualcuno che sia in qualche modo omogeneo all'ambiente che deve andare a infiltrare quindi ci fa capire che l'essere bergamasco l'essere bergamasca a quell'altezza temporale nel secondo 200 era diciamo una referenza cioè sei bergamasco ah sei retico insomma era era questo era questa l'idea quindi venire da Bergamo ti favoriva l'ingresso in quella comunità può anche darsi che Costanza avesse potuto avere proprio delle referenze dei contatti abbiamo visto prima quanto a Bergamo a Bergamo nel territorio bergamasco fosse diffusa questa atmosfera quindi l'essere di Bergamo ti favoriva in questa missione di di spionaggio chiamiamola così di agente sotto copertura antelittera dall'altra parte l'essere donna il fatto che l'inquisitore questo frate timodeo scelga una donna bergamasca e non un uomo bergamasco ci può anche far capire in controluce che la presenza femminile in queste comunità non era un'eccezione non era un'eccezione era usuale anzi probabilmente non dico maggioritaria per carità però era non era eccezionale non era considerata bizzarra una stranezza perché se io devo scegliere un infiltrato scelgo un infiltrato il più possibile omogeneo a quell'ambiente e quindi mi sceglie una donna e mi sceglie una bergamasca questo purtroppo sono le poche considerazioni che possiamo possiamo fare partendo dalle due fonti di cui disponiamo il resto il resto resta nel buio e a proposito volevo leggere un passaggio tratto proprio dal saggio di Marco Bascapè che vi ho segnalato prima riguardo questo documento che lui ha portato alla luce ritornato alla luce dopo un oblio di 700 anni approdato miracolosamente alla sponda della nostra epoca attraverso il naufragio ininterrotto dei secoli questo fragile relitto viene a portare un po' di scompiglio nel quadro delle conoscenze date per acquisite sulla vicenda di Pungilupo e sugli sviluppi del catarismo in terra padana e della sua repressione nella seconda metà del 200 non che porti molti nuovi elementi qualche cognome qualche toponimo qualche puntualizzazione cronologica e poco altro ma quel tanto basta a farci avvertire ad un tratto la drammatica esiguità delle fonti che ci sono sopravvissute su quelle vicende i lembi di informazioni che ci sono pervenuti non sono che brandelli salvatisi per puro caso dalla damnazio memorie intorno il vuoto abissale che continuiamo e forse continueremo a ignorare quindi questi davvero sono solo delle schegge dei brandelli come li definisce Bascapè è questo che c'è rimasto per finire davvero una piccola una piccola coda sulla fine della comunità catara di Sirmione perché ritengo essenziale parlare di come sia finita la comunità catara di Sirmione qua sono alcuni suggerimenti bibliografici sui cosiddetti catari davvero la bibliografia immensa è sterminata sul catarismo allora Sirmione l'ultimissima roccaforte come vengono viene a terminare questa vicenda ce lo ce lo riferisce un cronachista veronese negli annales veronenses ci dice che il 12 di novembre del 1276 ricordiamoci Costanza era stata infiltrata nel 1273 il 12 novembre del 1276 il vescovo di Verona chi è questo vescovo di Verona è frate Timodeo che nel frattempo è diventato vescovo quindi ai tempi di Costanza era il capo inquisitore dal 1275 al 1278 è vescovo di Verona quindi il vescovo di Verona già frate inquisitore Timodeo insieme con Pinamonte Bonacolso Pinamonte Bonacolso era il signore di Mantua insieme a Alberto della Scala Alberto della Scala era il fratellino il fratello minore di Mastino della Scala signore di Verona insieme a frate Filippo inquisitore questo frate Filippo era figlio di Bonacolso era figlio del signore di Mantua tutti insieme andarono a Sirmione questa è la retata contro i catari di Sirmione con cui si chiude la comunità di Sirmione a Sirmione ci dice il cronachista vi era una casa di eretici da lunghissimo tempo e lì catturarono 166 tra eretici e eretiche inter ereticos et ereticas questa precisazione non è inutile perché ci fa vedere la forte presenza femminile in questa comunità furono condotti a Verona questi 166 catturati in questa retata con l'approvazione e il beneplacito del signore di Verona Mastino della Scala che era il fratello di Alberto della Scala quindi vedete che questa retata viene condotta da una sorta di sinergia chiamiamo con una sorta di sinergia tra signori di Verona signori di Mantua e potere ecclesiastico potere ecclesiastico rappresentato dal vescovo di Verona già inquisitore e dal nuovo diciamo capo degli inquisitori che era figlio del signore di Mantua quindi vedete che potere ecclesiastico poteri religiosi sono strettamente intersecati in questa azione di retata e di repressione che cosa è accaduto successivamente è sempre Umberto De Romano che ci informa il 12 scusate il 13 di febbraio giorno di domenica quindi il 13 febbraio domenica del 1278 quindi sono passati all'incirca 14 mesi dalla retata Sirmione furono bruciati nell'arena di Verona circa 200 qua vengono chiamati patarini anche qua sulla terminologia la bibliografia infinita sono catari di quelli che erano stati catturati a Sirmione abbiamo visto i catturati nella retata erano 166 sono passati 14 mesi è probabile che abbiano trovato qualcun altro e termina con questo rogo collettivo in un giorno di domenica all'arena di Verona e chi fa eseguire questa sentenza è questo frater Filippus che è figlio del signore di Mantova ecco io vorrei terminare con questa immagine di questo rogo collettivo e di questa prima retata e di questo rogo collettivo a Verona dove davvero si dimostra che questa azione repressiva è un'azione svolta diciamo in sinergia concertata da quelle che erano le istituzioni di potere ecclesiastico le istituzioni di potere civile strettamente tra di loro intersecanti ecco spesso noi pensiamo all'arena di Verona per l'opera per la Ida per i concerti musica pop però ecco l'arena di Verona è stato anche luogo di questo rogo collettivo eh sì era una festa l'hanno fatta di domenica erano gli spettacoli del tempo grazie di questo no al momento no grazie mille Francesca per questo racconto veramente ricco e interessante io credo che lo storico nel suo lavoro cerchi due cose cerchi e trovi due cose quello che è diverso nel mondo che studia dal suo un modo di ragionare diverso una mentalità diversa e anche quello che invece è moderno cioè che è simile a lui ed è simile a lui perché l'uomo è sempre l'uomo quindi quando l'umanità è la stessa è chiaro che si ritrovano le stesse cose in questa storia che abbiamo sentito io credo che ci siano molti elementi di modernità questa questione dei due tipi di delazione per esempio mi sembra significativa se uno può ottenere uno sconto di pena è naturale è umano andare a cercarlo se uno fa un'inchiesta è naturale usare degli infiltrati come si fa oggi direi che è un aspetto strategie attuate dalle strutture di potere quindi diciamo questa modernità stupisce anche in un tempo così così addietro niente questa era la cosa che mi aveva colpito vogliamo lasciare magari spazio un po' a qualche domanda cosa si intende per dualismo nella religione catena allora lei sta facendo una domanda gigantesca allora cercherò di essere il più semplice e breve possibile allora il cristianesimo più o meno è una religione monoteista giusto quindi un solo principio un solo dio ok nel dualismo si prevedono due principi due di cioè il dio del bene e il dio del male il dio del bene è il dio dello spirito e il dio della luce e il dio del male il principio del male è il principio delle tenebre ed è il principio della materia e ci sono forme diverse di dualismo c'è un dualismo radicale quindi dove questi due principi sono equivalenti tra di loro e in lotta eterna quasi eterna e invece c'è un dualismo più moderato dove esiste comunque una gerarchia tra questi due principi dove il principio del bene diciamo così è comunque superiore rispetto al principio del male il dio del bene è superiore al dio del male quindi queste sono le due forme l'avere questo tipo di concezione teologica dualista il bene il male la luce le tenebre lo spirito la materia ha tutta una serie di conseguenze proprio dal punto di vista pratico facciamo degli esempi quando si diventava perfectus o perfecta quindi dopo l'iniziazione l'imposizione delle mani eccetera si era tenuti a uno stile di vita che dimostrasse il disprezzo per la materia perché la materia era considerata creazione del principio del male tutto ciò che è materia di conseguenza proprio termini proprio immediati comportamenti in ambito ovviamente sessuale chiaramente quindi proprio una stensione astinenza totale dal punto di vista sessuale proprio perché attraverso il rapporto sessuale si imprigionano si generano nuovi corpi e i corpi venivano considerati prigioni dell'anima il corpo era considerato la tunica di carne la prigione dell'anima per cui attraverso il rapporto sessuale io produco nuove prigioni in prigione nuovi spiriti questo un aspetto un altro aspetto era ad esempio la questione alimentare nel chi aderiva in modo stretto quindi con l'iniziazione col consolamentum a questo tipo di visione dualista si asteneva da tutti i cibi di origine animale quindi era una sorta di vegetarianesimo anzi addirittura quasi veganesimo ora sulle origini di di questa concezione dualista più o meno radicale più o meno moderata guardi è un oggetto di discussione che va avanti veramente da ecco qui qui ad esempio c'è un volume recente del 2016 la bibliografia immensa è un volume che cerca un po' di mettere appunto le discussioni storiografiche sulle origini di queste concezioni dualiste sulla diffusione in area occidentale in Europa occidentale di queste concezioni dualiste queste concezioni sono diciamo suonano più orientali perché ad esempio si credeva ovviamente nella reincarnazione per cui tu non riesci a purificarti totalmente a liberarti totalmente dalla materia si prevede un ciclo di reincarnazioni è qualcosa che suona manicheo che suona orientale ok quindi è stato recentemente fatto anche un bel docufilm un po' lunghetto dura oltre tre ore che si intitola Bogre che significa bulgaro e dove questo regista ricercatore regista Fredo Valla allora il regista si chiama Fredo Valla il film docufilm si intitola Bogre Bogre che è un modo per dire in occitano bulgaro che lui cerca di ricostruire proprio la diffusione l'origine la diffusione di questa forma religiosa nell'Occidente nell'Europa occidentale e come dice il titolo stesso Bogre sembrerebbe che il nucleo originario il territorio originario sia in qualche modo legato alla Bulgaria qui il discorso davvero diventerebbe infinito però lo potete lo potete trovare questo docufilm un po' lunghetto sono più di tre ore si certo si 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 su youtube non penso però noi l'avevamo l'avevamo proiettato un paio di anni fa qui ma comunque è accessibile cioè si può trovare in internet cioè non penso libero però però Sant'Agostino nasce con il manicero quindi si è giugiano esattissimo era africano c'è una commissione tra Occidente e Oriente e si può finire per parte stranica è bellissimo quello che vi dicevo però c'è un per il momento di inizio di questa eresia c'è un periodo in cui perlomeno viene emergita la luce prima non c'era allora sì 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 però anche lì le testimonianze sono cronologicamente vengono molto discusse proprio per la terminologia che viene usata per definire questi comportamenti questi gruppi alcuni addirittura invece dicono che questi gruppi non sono mai esistiti sono un'invenzione no glielo garantisco glielo garantisco non sto infatti sì c'è anche questa è una questione che ci tocca un decostruzionismo del tema che arriva fino al negazionismo esiste o non esiste questa questa eresia vi garantisco che ci sono degli studiosi soprattutto di area francese ma non solo francese che sono arrivati attraverso la decostruzione arrivati addirittura a delle posizioni praticamente negazioniste cioè dicono no questa qua è tutta un'invenzione vabbè quindi davvero le garantisco che è un discorso c'erano delle mani una cosa che ho notato parlando dell'origine di questa costanza le decumbe che sia legata alla località città alta del gombito nel medioevo il cognome deriva spesso dal luogo di origine a parte questo le chiedevo io mi sono occupato purtroppo più di mezzo secolo fa la mia tesi su una battaglia di corte nuova e sono venuto a conoscenza appunto attraverso questi signori questi conti di corte nuova accusati di eresia probabilmente lei ha incontrato questa dopo la famosa battaglia il paese viene distrutto dai bergamaschi e non viene più ricostruito con l'aiuto di Innocenzo IV che manda bolle ai vari comuni lombardi perché è ritenuto covo di eretici patarini ma poi questo conte sposa la sorella dell'arcipesco Ottone Pisconti e se la cava alla grande però un centinaio di eretici sfuggiti all'istruzione del paese fuggono nel castello di Mossanica feudo ancora di questi conti di corte nuova che verranno tratturati pochi anni dopo ma volevo chiedere se anche su questi eretici di corte nuova o di concorrenza stessa famiglia stessi allora guardi la persona che è seduta esattamente accanto a lei ecco è un ericico è il dottor Daniel Totti che ha appunto appena concluso una ricerca anche su questa cosa è il suo sistema che è il suo sistema di corte nuova quindi la devio a lui però le dico e così adesso impegniamo il Daniel è che Daniel e io avremmo un progetto appunto di pubblicare un libro su tutte queste varie presenze diciamo dissidenti non conformiste legate a Bergamo e a altri località del Bergamasco proprio su queste cose non vorrei annoiare l'ultima cosa ho visto tra questi eretici c'è questo castellano che viene da Bergamo ho trovato che proprio il mio paese Cividate Cividate ovviamente al piano i fondatari del luogo sono questi Pensamigola o Pesamigola che è la stessa cosa e uno di questi è il potestà di Ghibellino uno di Firenze e uno di Cremona accusata spesso di eresie e uno il figlio di uno di questi si chiama Castellano Pensamigola purtroppo non dice il coniugue ma mi sa che che ci sia l'ultima cosa e poi sto prendendo appunti gli umiliati spesso e volentieri sono stati un po' inquinati da questa eresia inquinati qua c'è già un giudizio di valore c'è un giudizio di valore nel momento in cui diciamo inquinati a volte si legge che non so se erano accuse gli umiliati ne hanno avute di accuse che tra le accuse c'erano anche quelle di aver aderito aver guardato con molta simpatia ai patarini ma gli umiliati allora io ho fatto la mia tesi invece sugli umiliati per cui li difendo a spada tratta da queste accuse diciamo la sorte degli umiliati hanno diciamo sono in corsi in questo genere di accuse di essere diciamo troppo vicini a questi movimenti non conformisti sono stati però poi assolti e come dire assorbiti all'interno dell'ortodossia dal nocenzo terzo quindi la loro vicenda è stata una vicenda di diciamo sono quelli che hanno vinto se vogliamo la loro esperienza è stata accolta ecco mi viene in mente che il proprio guarda caso laddove ci sono c'erano case degli umiliati erano poi questi paesi che poi nel 3400 sono anche paesi dove circolava questa eresia ecco per cui a meno che abbiano abbiano forse attribuito alla presenza degli umiliati la continuazione di queste di queste eresie secondo me era proprio un humus era un terreno un'atmosfera favorevole a queste esperienze che poi fossero dei io mi occupo di Valdesi di Pauper's dell'Uduno fossero umiliati fossero dualisti di vario tipo cioè c'era proprio questa atmosfera generale questo fermento qui nella nostra terra non solo in città ma anche nei luoghi della provincia grazie mille grazie a lei ci sono altri una domanda da ignorante si è scoperto dove sono finiti i beni dei 166 che sono finiti interrogo chi ha incamerato questo cioè perché c'è sempre un sospetto cui protest assoluto allora diciamo che quando c'erano queste azioni c'era anche tutta la questione legata ai beni alle proprietà che venivano requisiti e solitamente un terzo andava all'ufficio inquisitoriale un terzo andava al Daniel aiutami allora un terzo andava all'ufficio inquisitoriale un terzo andava a parte civile e un terzo era per la pratica chiamiamola così per le spese vive chiamiamole così quindi ovviamente questa spartizione e c'era sempre delle torte importanti da spartirsi 166 persone saranno state 15 case almeno e anche di più considerando le famiglie più o meno questo non so allora questa questa cronaca ci dice 166 persone era una retata una retata era una retata c'era la domanda del signore mi è venuta la curiosità di sapere in Italia fino a quando è andata avanti questa simpatica abitudine di bruciare gli reti l'ultimo bruciato in che anno è stato Galita e Giordano Savonarola no no più tardi adesso questo l'ultimo bruciato diciamo che c'è una fase intensa in questo periodo del 200 fino agli anni 70 allora sicuramente Giordano Bruno Giordano Bruno del 17 febbraio del 1600 no 1600 1600 quindi Galileo l'hanno minacciato in quel 1630 volevo sapere invece che non sono così dotta come i miei predecessori che è se c'era una graduatoria di diverse eresie nel giudicarle cioè questa è più punizione e anche un diverso grado di punizione no no retico e retico e basta in realtà ad esempio abbiamo l'Ada Bolendam del 1184 dove vengono elencati vari gruppi che vengono colpiti e vengono elencati tutti insieme quindi non c'è quello che invece era più grave come diceva giustamente Lucia era l'essere relapsus o relapsa quindi se tu una prima volta avevi abbiurato come era stato anche vabbè la questione del punge e poi tornavi nuovamente attivo rientravi sempre in questi gruppi lì era più grave la cosa lei la costanza alla fine era un amato arido ma non ci sa se se ha fatto cioè faceva il doppio gioco ma vedi sarebbe tutto bellissimo c'è anche una signora che ha scritto un romanzo su queste cose che io però non ho letto però so che però in quel caso guardi io mi rifaccio sempre alle parole che vi ho letto prima resta questo vuoto abissale e bisogna anche un po' arrendersi se si vuole essere degli storici onesti intellettualmente bisogna arrendersi a quel poco che ci dicono le fonti il resto diventa romanzo diventa la fiction diventa che è un altro genere un altro genere una bella figura si ha fatto una spiola forse ho perso qualche passaggio io eviterei le valutazioni morali non è credibile l'astinenza sessuale ereticos ereticas non ci credo che facessero dualismo se non ci saremmo non ci saremmo più e poi anche il punto di lupo era sposato si poteva succedere di aderire a queste comunità dopo il matrimonio succedeva di aderire dopo il matrimonio e poi si tra virgolette scioglieva il matrimonio comunque restava solo un matrimonio di facciata succedeva questa cosa e a volte magari entrambi i coniugi aderivano ma così non facevano nascere dei piccoli eretici sembra un po' assurda ma corrispondeva a una precisa idea teologica un'idea del mondo solo così no no crede che rispettassero quella nobile ma questo io penso io penso proprio io salate che lei è un uomo io non so dobbiamo salutarci perché ci cacciano veramente mia grazie grazie della partecipazione grazie ancora a tutti e a tutti grazie 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 a tutti